Buonasera, buonasera, bentrovati cari amici di Focus 3.0. Sono qua per ricordarvi che questa sera alle 21.30 nel mio salotto di Anna avrò come ospite Joe Alberti e Anna Maria Bona. Un appuntamento che sarà da non perdere sarà il salotto di Anna Extra con due persone contattate che hanno contatti quindi con le altre dimensioni con le quali sicuramente avremo modo di parlare e di sentirci raccontare quello che l'universo ci manda a dire. Quindi questa sera è un salotto molto 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 interessante e vi consiglio a tutti di non perdere. Perciò vi aspetto alle 21.30 su Focus 3.0, il mistero della vita nel salotto di Anna Extra. A presto cari amici. Grazie a tutti.